Benvenuti al Mottura. Un nuovo assistente affianca alcuni docenti nell'attività didattica dell'Istituto Mottura di Caltanissetta. Si tratta di un robot omanoide e programmabile che attraverso il mondo della robotica riesce ad interagire con i ragazzi della scuola e soprattutto a venire incontro anche ai bisogni degli studenti con disturbi dello spettro autistico o nell'apprendimento. Reagisce agli stimoli esterni, ascolta e si esprime, si muove, riesce persino a ballare. Dopo il suo arrivo è stata prevista una fase di formazione per il personale docente. e adesso si rivolge direttamente agli studenti. Io sono Nao. Benvenuti nel laboratorio TPS. Adesso il mio collega vi spiegherà come si lavora in questo laboratorio. Nao è un robot umanoide che ha la capacità di relazionarsi e di comunicare in una maniera diretta, specifica, adatta, adeguata agli alunni con bisogni speciali. La novità di Nao è che è un robot che rientra all'interno della robotica educativa. La capacità quindi di andare oltre ad una comunicazione che sia semplicemente linguistica, ma è una comunicazione corporea che si adatta ai ragazzi perché soprattutto li fa apprendere giocando. Allora abbiamo la possibilità di programmare Nao per tante tipologie di bisogni educativi speciali. e in una società in cui molto spesso la scuola risponde a delle esigenze dettate da patologie, da povertà educative, da bisogni comunque di tutti i tipi, ecco la scuola del Mottura è nuovamente pronta a dare soluzioni a problemi. Grazie.